La scuola di calcio Il palazzo sotto ogni palazzo c'erano 20-30 persone alla sera Il musico si basava molto sulle fili netti, doveva mondiale un tema Avevo molte volte una parte dell'attività di qualificazione del territorio Molti abitanti di condizioni sono infermieri, netti Magari hanno comprato casa perché lavoravano in ospedale E poi quello che ci mancava ce lo siamo fatto E anche attività più culturale Secondo me siamo stati appoglienti Prendere questo posto è bello Magari se ne vanno alcune persone Forse a me sarebbe una scuola A me sarebbe una scuola di calcio A me sarebbe una scuola di calcio A me sarebbe una scuola di calcio A me sarebbe una scuola di calcio